Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi andremo a vedere insieme la prima uscita di Batman, le cronache del Cavaliere Oscuro, il ritorno del Cavaliere Oscuro DC, edito dalla Hachette, che è stato un acquisto diverso da parte mia, ma che è a questo prezzo ragazzi, 1,99€, non potevo non prenderlo. Andiamo a vederlo bene insieme. Eccola qui la prima uscita di Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro DC, le cronache del Cavaliere Oscuro, di Frank Miller, Klaus Jansson e Lynn Varley, la prima uscita ed è edicola, edita dalla Hachette, di questo famosissimo e unico supereroe, per me il migliore. Chi mi conosce lo sa, non amo particolarmente i supereroi, ma come ho sempre detto, l'unico supereroe che fin da piccolo mi è sempre piaciuto, che appunto ho seguito il cartone animato, ho visto i film, insomma ho letto anche qualche fumetto, è sempre stato Batman. Le uscite saranno 60, la prima ragazzi, a questo prezzo non potevo non comprarla, 1,99€, prima uscita quest'oggi, uscita in edicola, sabato 17 agosto 2024, anche perché io non sapevo proprio di questa uscita, ma me l'aveva consigliata un amico, un utente amico del canale, che saluto, e praticamente mi aveva detto, guarda lì esce questa in edicola, la prenderai, e a questo prezzo ho deciso di prenderla. Le uscite ragazzi saranno 60, ovviamente già ve lo dico, non farò la collezione, perché la prima uscita costa 1,99€, la seconda 6,99€, poi costerà 13,90€, ma ragazzi abbiamo a che fare con un cartonato ragazzi, un cartonato delle storie più importanti di Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, Frank Miller è una garanzia, ragazzi, vi faccio vedere un po' qualche tavola, anche la carta, che comunque è di ottima fattura, insomma, trovarlo a 1,99€ ragazzi è praticamente regalato, gratis, queste sono alcune delle tavole. Io, come detto, non sono un grande lettore di fumetti della DC o Marvel, dei supereroi in generale, però non potevo assolutamente lasciare in edicola questo numero, anche perché vediamo la copertina così bella, come detto, un cartonato molto bello, qui dice, contiene Batman The Dark Knight Returns 1, 4, il ritorno del Cavaliere Oscuro, e ci parla un po' di Frank Miller. Qui ci sono un po' tutte le uscite, questo è addirittura un mega poster, molto bello devo dire, ve lo faccio vedere, quindi ragazzi, secondo me, io il consiglio che posso darvi è di andare in edicola, di prendere almeno questa prima uscita, poi se siete comunque fan di Batman, insomma, vi piace Batman, potete fare anche tutta la collezione, qui dice, insomma, Shet, prenota subito in edicola tutte le copie, ordina subito per poter dare, insomma, ricevere a casa con il primo invio, Io queste cose non le capisco, ragazzi, perché non ho mai fatto queste uscite da edicola, non ho mai fatte complete, più che altro, ho sempre preso i primi numeri, così, io ragazzi, ve lo dico, forse prenderò il secondo numero, perché costerà 6,99, poi dal terzo, il secondo numero è La Corte dei Gufi, di Scott Snyder e Greg Capullo, insomma, la DC, ragazzi, diciamo che l'ho sempre preferita alla Marvel, se devo essere sincero, dalla mia poca e non alta conoscenza dei supereroi. E dunque, ragazzi, Batman è il ritorno del Cavaliere Oscuro, potete trovare in edicola, come detto, edito da Shet, se volete fare la collezione, come detto, preparatevi, perché sono ben 60 uscite, se invece volete prendere soltanto questa, perché a questo prezzo, ragazzi, ripeto, un euro e 99, davvero, di sti tempi non ci compri nulla, di questa caratura, poi, perché questo è un cartonato, ragazzi, non è un brossurato, non è uno spillato, è un cartonato con tantissime pagine, cioè, ci sono anche, qui alla fine vediamo, insomma, vari bozzetti, interviste, gli autori, c'è un po' di tutto, insomma, c'è un po' di tutto, e... Quindi io lo consiglio a tutti gli amanti dei fumetti, che siate amanti dei supereroi, o non lo siate, come me, però, insomma, è da prendere. Qui, insomma, ordina subito e scopri tutti i fantastici regali a te riservati, c'è la tazza, la spilla della DC, il notebook con il segnalibro personalizzato, addirittura. Non ho approfondito questa cosa qui, e come detto, è... questo è un video di presentazione, non ho ancora letto il volume, però, diciamo che, secondo me, ne vale la pena a questo prezzo. Ovviamente, voi che commenterete, che ne capite molto più di me, del mondo dei supereroi, potete commentare, e dirmi, insomma, magari consigliarmi, cosa fare, se prendere almeno una seconda uscita, che è molto probabile che io la prenda. Però, ragazzi, a me ha messo sempre tanto fascino questo supereroe, questo personaggio come Batman, sempre tenebroso, dark, un supereroe diverso dagli altri, e... Poi, comunque, sto a poster è fantastico, ragazzi, penso che lo userò, lo appiccicherò nella mia stanza, è un poster bellissimo. E quindi, ragazzi, io... il consiglio che vi posso dare è di acquistarlo, perché a 1,99 la prima uscita si prende. Poi, se avete la mania, insomma, la mania, se siete fissati col collezionismo e vi dispiace, insomma, comprare soltanto il primo numero non avrebbe tanto senso, io ne sono cosciente. Però, ragazzi, fate la collezione pure, a sto prezzo, insomma, se non ne avete mai letto, diciamo che ci sta alla grande. Però, io sono contento di aver preso questo numero, lo leggerò con calma, me lo gusterò, anche perché ci sono delle tavole molto belle. Poi, Frank Miller, ragazzi, è la storia, insomma, del fumetto mondiale, dei comics, e quindi, secondo me, ne vale la pena. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto, fatemi sapere se anche voi avete acquistato, acquisterete questa prima uscita edita da Hachette, per quanto riguarda Batman, Ritorno del Cavaliero Oscuro, o se farete comunque la collezione intera, oppure magari non me ne frega niente, però, se siete amanti dei fumetti, secondo me, la prima uscita, a questo prezzo, va assolutamente presa. Poi, ragazzi, grazie ancora, mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, continuate a seguirmi perché ci saranno tanti altri contenuti e ci metterò sempre tutta la mia passione. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi!